Giovedì 8 marzo la sala consigliare del comune di Civitanova Marche sarà la location di un open day per celebrare in contemporanea la giornata internazionale della donna e la giornata mondiale del Rene giunta al suo tredicesimo anniversario. Il tema di quest'anno è il Rene e la salute delle donne con cui si promuove un equo accesso all'educazione alla salute, all'assistenza sanitaria e alla prevenzione delle malattie renali per tutte le donne. Nell'incontro aperto a Palazzo Sforza e organizzato con la collaborazione dell'Asur e del comune si tratterà dei fibromi uterini e dei reni e la salute delle donne. Adesso parteciperanno gli operatori sanitari del punto nascita e dell'unità di nefrudialisi dell'ospedale di Civitanova. Grazie a questo evento ci sarà un'attività di prevenzione gratuita sia presso i reparti di ostetricia e ginecologia con visite ginecologiche che hanno già registrato un sold out di prenotazione e la possibilità per tutti di usufruire senza obbligo di prenotazione di una visita breve della misurazione della pressione arteriosa e degli esami delle urine presso l'unità di nefrudialisi. Una bella sinergia tra i vari reparti ospedalieri ha detto l'assessore alle politiche sociali e al welfare Barbara Capponi. C'è una grandissima volontà di lavorare tutti insieme per creare iniziative che siano di informazione, di prevenzione e di servizi concreti.